Papà che cazzate eh! Non gli aveva affatto le manine lì? Eh? No L'interno non ci vanno Un po' scivolando insomma Se c'era il problema lì Se ci fosse una volta non c'erano punti Level of tapping No Che si è allentato Sanso? Non ci sarebbe da fare il nuovo movimento Di parti Eh? Ti fanno vedere qua Poi Poi Prova Ma questo motorino che ha anche il rosso puoi Che ha? Si sa o no Io non ne ho avuto a riparere Che l'ho visto lì sopra Si no appunto vedo che non c'è più E stavo levato E stavo levato E stavo levato E fa quell'anno Vabbè, ormai mi viene da fare anche questo Senti Tutto le lato Oh Grazie Vai Vai